Siamo insieme, ecco la parola fondamentale è insieme, anche se siamo non fisicamente vicini tutti, contro le mafie oggi come allora e soprattutto per un futuro migliore. E' importante investire nei ragazzi, è importante dare a loro la possibilità di vivere personalmente la testimonianza di chi si è impegnato negli anni, anche con rinunzie personali, anche donando la sua vita a favore di quelle che sono le nuove generazioni perché possano avere un futuro migliore. Siamo insieme all'associazione Piola Torre, siamo insieme a tanti altri esponenti e rappresentanti, siamo insieme al comune di Altavilla Milicia, tutti per rinnovare il nostro impegno e per fornire testimonianza personale diretta ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze che sono la nostra speranza e il nostro futuro. A quasi 40 anni, bisogna spiegare a questi ragazzi che non erano nati, nemmeno i loro genitori probabilmente, che quella è stata la prima reazione popolare trasversale contro una fase acutissima della lotta di mafia che ha fatto centinaia di morti in pochi anni. Nel 1982 Casteldaccia, Altavilla, Bagheria erano diventate l'epicentro delle stragi di mafia. La reazione popolare ha dimostrato che la gente era contro la mafia ed è per questo che è passata la storia come prima manifestazione popolare antimafia. Anche quest'anno, per il 39esimo anno, ci accingiamo a celebrare questo che è una giornata di memoria importante, che ci ricorda e ci porta alla mente un momento storico che ha per noi assegnato la differenza. Quel momento è stata una separazione netta tra chi era a favore della mafia e chi finalmente aveva deciso di rialzare la testa. Il 26 febbraio del 1983 andavo al liceo scientifico, era l'ultimo anno e ho partecipato insieme a tutti i miei compagni a questa prima marcia antimafia. I ricordi sono una grandissima partecipazione studentesca. C'eravamo tutte le scuole di Bagheria e poi c'erano anche tantissime scuole di Palermo. La cosa che mi ha impressionato è vedere insieme studenti, operai e rappresentanti delle forze dell'ordine, ma soprattutto c'era una presenza massiccia dei predi del comprensorio, Altavilla, Casteldaccia e Bagheria, che allora era stato definito un po' il triangolo della morte. C'erano i politici di ogni colore politico. È stata probabilmente la prima marcia che ci ha visti uniti tutti contro la mafia. Eravamo reduci tutta una serie di omicidi che sono stati commessi nel nostro comprensorio, proprio in quello che veniva definito il triangolo della morte, più di 20 omicidi tra luglio e agosto dell'82. Questo probabilmente ha scosso la coscienza popolare.